Rien va plus, le je son fait. Questo dice il croupier del Casinò una volta fatta partire, la roulette. E al comune di Pescara per settimane è sembrato di vivere proprio all'interno di un Casinò, con la pallina bianca che alla fine si è fermata sul nome di Stefano Civitarese Matteucci, dopo aver rimbalzato su altri nomi e colori e vacillato fino all'ultimo sulla casella di Giuliano Deodati. Dunque ha prevalso la ragion di Stato, perché l'eventuale defenestramento dell'assessore al bilancio dello sport avrebbe generato un effetto a catena con ripercussioni imprevedibili anche in regione Abruzzo. Deodati, appartenente alla corrente del Partito Democratico, capeggiata dall'assessore regionale Donato Di Matteo, dunque resta al suo posto dopo giorni vissuti sulla graticola. Ma la scelta di far fuori Civitarese, assessore esterno da meno di un anno, è una scelta pesante a cui il sindaco di Pescara si è dovuto piegare proprio per evitare conseguenze e guai peggiori. Preso tra due fuochi, le pressioni interne al PD e la questione liste a Teodoro, Alessandrini ha deciso di sacrificare l'uomo che aveva chiamato per risollevare le sorti dell'urbanistica in città. Civitarese, che ha preso la notizia nella serata di ieri, si è detto sorpreso del dietrofront del sindaco, che dopo la riunione di sabato scorso con D'Alfonso sembrava intenzionato a chiudere la partita con i dimatteiani. Evidentemente la minaccia di uscire da regione e provincia di Pescara e comune, lanciata nemmeno troppo velatamente da Di Matteo, non era una semplice butade, ma una eventualità più che concreta. Così a far posto a Gianni Teodoro, placando il Vietnam in consiglio comunale, sarà uno tra gli ultimi arrivati, così come Laura Di Pietro, destinata a lasciare l'incarico ai parchi per far posto alla consigliera Simona Di Carlo. Ma le grane del sindaco di Pescara non sono finite qui, perché dopo il Totonomi è già scattato il Totodeleghe. Sicuramente Gianni Teodoro non si accontenterà di deleghe di facciata, ma vorrà incidere pesantemente sulle decisioni che riguardano la città. La roulette quindi è destinata a tornare a girare di nuovo in attesa dell'ufficializzazione del completamento del rimpasto.